Buonasera a tutti, sono Luca Calabrese e sono il CEO di Liguria Consulting Solutions RL, Società di Progettazione e Sviluppo Software. Quello che vi parlo oggi è proprio far vedere come l'AI possa in qualche maniera essere utile alla causa dell'aumentare quello che è l'ebit aziendale e lo farò attraverso una soluzione che noi proponiamo e quindi facendo vedere dei use case che in qualche maniera fanno vedere come questo sia possibile. Quello che vi porto oggi a voi è quella che è l'esperienza nata ormai da più di 15 anni di lavoro, nata in ambito accademico quindi con forti quelle che sono le forti, una forte formazione anche proprio su quelle che sono le tematiche di AI e che portiamo avanti in collaborazione anche adesso con quelli che sono i maggior gruppi universitari tra cui anche l'Università di Milano. E quindi ci mettiamo sempre a confronto in quelle che sono le realtà anche nazionali per avere appunto un punto di vista sempre aggiornato su quello che è l'utilizzo delle soluzioni sul mercato. Cosa facciamo noi? Da anni abbiamo sempre scelto come approccio quello di andare a creare una soluzione tailor made, cioè significa cucita addosso sul cliente. Andiamo un po' forse controcorrente a quello che è il mercato, quello di andare a trovare delle soluzioni generaliste che vengono poi specializzate. Ne facciamo un po' il contrario. Noi secondo noi siamo convinti che affinché una soluzione venga poi utilizzata sul serio debba essere mirata e costruita sul cliente. E questo lo facciamo ad esempio con l'utilizzo della AI. Ormai da qualche anno a questa parte noi abbiamo creato una nostra soluzione che cosa fa? È proprio quello di andare a capire come all'interno dell'azienda le persone reagiscono e decidono cosa succede in base alla operatività ordinaria e straordinaria. Quindi ogni referente di azienda a livello sia di BU piuttosto che di gruppo in qualche maniera applica delle regole, un modo di ragionare per reagire e quindi in qualche maniera decidere cosa fare in proporzione a quello che accade nell'azienda. Ecco, l'idea qual è della nostra soluzione è quello di replicare questo modo di ragionare quindi apprendendolo continuamente da quelli che sono i responsabili e replicarlo in maniera intuitiva con la AI. Questo di fatto genera, noi ci piace chiamarlo, il Decision Twin, quindi proprio il gemello digitale che rappresenta esattamente come quel processo o quell'azienda ragiona in proporzione a quello che è l'operatività della propria azienda o del proprio settore. Anche stamattina abbiamo visto diversi colleghi che hanno espresso problematiche che tutti hanno diciamo all'interno dell'azienda, quindi qualsiasi azienda che è responsabile o team leader che ha a che fare con un processo sicuramente si riconosce in uno di questi problemi. E in particolare volevo portare l'attenzione, visto che è un tema che è molto sentito, per esempio l'utilizzo, l'introduzione all'interno di un processo dell'azienda, dell'SG, che ne si parlava stamattina, sicuramente è visto come una nuova tecnologia, una procedura che bisogna in qualche maniera gestire all'interno dell'azienda. Quindi è una novità. Questa novità cosa porta? Porta una gestione ulteriore e quindi bisogna cercare in tutti i modi di andare a recuperare tempo di qualità all'interno dell'azienda. Quali sono le persone chiave? Sono sicuramente i responsabili. Quindi se io riesco a ridurre il tempo necessario al mio CFO, piuttosto che a tutte le figure apicali dell'azienda, a ridurre quello che è il tempo di gestione dell'operatività normale e straordinaria, ha sicuramente più tempo per riuscire ad affrontare le nuove sfide. Quindi mettere la creatività perché fortunatamente l'AI ci aiuta a supportare quello che già conosciamo, quello che non conosciamo e quindi in qualche maniera lo dobbiamo andare a gestire e ancora grazie al cielo a carico della creatività di ogni referente. Quindi cosa fa la nostra soluzione? Sostanzialmente è proprio quello, quello di andare a prendere continuamente da quello che è l'operatività dell'azienda, quali sono le azioni che vengono fatte. Quindi il motore di AI ne fa tesoro e la volta successiva riconosce la situazione e ti propone quella che è la soluzione. Ovviamente questo cosa permette di fare? Di risparmiare enorme tempo di gestione e risorse finanziarie. E questo ovviamente è quello che si voleva, quindi cercare di ridurre il tempo di gestione dell'ordinario per avere più tempo per creare e per gestire nuove situazioni. Veniamo però con dei numeri, a me piace sempre buttare poi sul concreto quello che è la soluzione e quindi che valore aggiunto dà veramente l'utilizzo dell'AI. Quindi riporto, fonte McKinsey, quello che è stato l'utilizzo della generativa AI all'interno di 1684 aziende. Quindi qual è l'impatto reale che si ha all'utilizzo di questa tecnologia sull'ebita poi aziendale? E come sapete sono due parti che compongono quello che è poi l'aumento dell'ebita. Sicuramente all'aumento delle vendite, cioè io utilizzando l'AI abbiamo la possibilità di aumentare una forchetta che va dal 3 al 10% del mio fatturato. Perché? Perché comunque io vado ad automatizzare, vado in qualche maniera ad efficientare quel processo lì. Quindi media ponderata 5%. Ma anche i costi, perché io cosa faccio? Io cerco di capire come intervenire e a ridurre i costi efficientando quello che faccio. Perché c'è qualcuno che ragiona come me, che mi aiuta a prendere decisioni e quindi a smaltire quello che è l'operatività, quindi quello zoccolo duro di attività che tutti i giorni portano via un sacco di tempo, lo fa l'AI al posto mio. Quindi anche qui la riduzione è molto importante, parliamo dal 5 al 20%. Quello che possiamo dare noi come esperienza nostra è che queste percentuali sono addirittura forse in alcuni casi conservative. Quindi si può anche fare di meglio. E questo, mi piace dire, è stato un po' secondo me il passaggio che è stato fatto grazie anche a quello che è stato il processo di digitalizzazione. Cioè l'AI sicuramente è on top quella che è la digitalizzazione. Quindi io devo avere i dati e a questo punto con i dati posso desumere e posso aiutare i vari referenti del processo a decidere meglio. Perché ho le informazioni, ma avere le informazioni e prendere decisioni sopra è tutto un processo diciamo di apprendimento continuo, machine learning, eccetera. Andiamo più nel... Adesso, questa è la slide che mi permette di spiegare meglio un po', ma nell'atto pratico cos'è? Cosa fa il nostro decision twin? Ecco, in cima c'è sempre perché per noi è fondamentale, la figura dell'uomo è principale. Quindi volevo appunto anche rispondere un po' ai colleghi che si diceva prima quello che è il ruolo dell'AI all'interno poi dei processi. Per noi è un supporto, deve essere sicuramente un supporto, ma che permette di andare a sgravare quelle che sono le decisioni già prese. Cioè io devo fare tesoro da quello che ho già capito. Cioè io se nel passato ho risolto una problematica, questa problematica ha partito via un sacco di tempo, perché ripartire da zero? L'AI permette di apprendere quello che è stato fatto e quindi la prossima volta verrà in qualche maniera riproposta. Quindi il mio alter ego, come si diceva prima, il copilota che mi piaceva come termine, volevo riutilizzarlo, sicuramente è questo nostro motore proprietario, nostro sviluppato da noi internamente, che permette sostanzialmente di andare a efficientare e ottimizzare un processo. Quale processo? Quello proprio dell'azienda, qua viene il tailor made, perché la soluzione deve essere cucita sul cliente, altrimenti io, come decido io, non decido il mio vicino di casa, quindi sicuramente non posso generalizzare, ma deve essere un meccanismo di apprendimento calato sulla realtà. E su qua per esempio abbiamo riportato quelli che sono tre settori tipici di un'azienda, ma questo ovviamente è solo per fare un esempio. L'utilizzo dell'AI in questo caso, come lo si butta a terra? Ecco, gli eventi in qualche maniera mi determinano cosa accade all'interno della mia azienda, quindi ogni evento, lasciatemi dire, si porta tutte le informazioni a supporto, quindi se un evento di produzione mi dirà per esempio quanti pezzi sto facendo. Queste informazioni sono già presenti nella business intelligence, benvenuta che ci sia, cioè noi partiamo dal pressupposto che l'azienda sia digitalizzata, altrimenti questo mancherebbe proprio la materia prima per poter applicare l'AI al nostro modo di vedere. Queste informazioni vanno dentro il nostro alter ego, quindi sono gli stessi dati che arriverebbero sotto forma di un report al mio CFO piuttosto che al mio gestore di risorse. E a quel punto cosa farebbe il gestore di risorse? Ah, decido cosa fare, cosa intervengo, ripianifico, decido di fare delle azionità correttive nel mio processo. Ecco, questo modo di ragionare viene replicato dalla AI e quindi verrà proposto in automatico, ma la proposta che farà è quella esattamente che tu gli hai insegnato a fare, quindi alla fine ti riproporrà un modo di ragionare che tu gli hai insegnato. E poi fondamentale è che abbiamo volutamente messo diversi settori aziendali, anche a volte abbastanza ostici da far comunicare, perché è un po' la problematica che tanti ci dicono. Nei nostri anni di esperienza si è visto praticamente che molto spesso i vari settori magari a livello di verticale sono abbastanza supervisionati, ma poi il problema sta nel trasversale. Quando io devo tirare le somme, quindi devo decidere una commessa a livello globale che mi parte dalla produzione fino alla consegna, quindi parlo per esempio di Bloch Paschetti per fare un esempio, dove appunto il problema è proprio quello di efficientare tutta la catena, io in qualche maniera gli eventi che ricevo, quindi le informazioni che io in tempo reale riesco ad ottenere, mi permetteranno di intervenire in maniera efficace e reattiva. E questo permette ovviamente di andare a liberare, ripeto come dicevo prima, il tempo delle persone che devono in qualche maniera risolvere i nuovi problemi, non riperdere tempo su quello che è l'operatività che in qualche maniera abbiamo già risolto in passato. Nelle conclusioni mi piace soffermarmi sul fatto che l'utilizzo dell'AI a nostro avviso deve essere un supporto, quindi deve avere proprio come soluzione e come target quello di andare a far recuperare tempo. Però è importante, come faccio a recuperare tempo stando però tranquillo? Devo fare in modo che il mio avatar, il mio alter ego, copilota vogliamo come chiamarlo, che aiuta praticamente nella parte decisionale standard, mi permette di andare a raggiungere i KPI che mi sono prefissato, perché è importante, io non posso ritagliarmi tempo se so che poi l'azienda in qualche maniera non è completamente subvisionata. Io con questo nostro motore hai la possibilità di avere la situazione sotto controllo e quindi avere il tempo per poter andare a creare, a decidere in qualche maniera, a espandere il mio business, il mio modo di lavorare. Cos'è importante puoi dire? Perché in ogni, si citava anche prima nei tavoli di prima, molto spesso le scelte che vado a fare a livello industriale, io in qualche maniera prendo dei rischi, in qualche maniera faccio delle previsioni, dico benissimo se io introducessi una nuova filiera, se io introducessi una nuova filiale, ma la mia azienda regge in qualche maniera, sono sicuro che non devo strutturarvi in maniera diversa. Ecco, l'avere un digital twin che rappresenta esattamente come l'azienda ragiona in tutte quelle che sono le sue parti, permette anche di andare a fare delle analisi molto precise a livello predittivo. Perché io posso andare, cosa faccio? Io so come reagiono, perché ho insegnato al motore come reagisco all'operatività. A questo punto io lo metto alla prova. Vado a cercare quelli che sono i punti di rottura dell'organizzazione, perché io vado a simulare l'introduzione della nuova filiare, per esempio, o un nuovo prodotto, e vedo se la mia, tutti i miei reparti che prima citavo, produzione, commerciale, eccetera, reggono all'urto. Oppure se mi devo strutturare, in qualche maniera devo andare a assumere persone, piuttosto che strutturarmi con dei macchinari. Ma questo lo faccio esattamente sapendo come vado a ragionare io. Ma mi permette anche di migliorarmi, perché io, mettendomi alla prova, magari mi rendo conto che come reagisco adesso va bene per una certa dimensione, diciamo, di lavoro. Ma se questo flusso aumenta, magari il mio modo di operare deve evolvere anche lui. Quindi, in qualche maniera, lo vado a testare. Quindi vado a simulare quello che potrebbe essere la nuova operatività e magari diventa la best practice, perché alla fine dimostro al mio management, ai finanziatori, che facendo in quella maniera lì, io ti garantisco che l'azienda, strutturandosi in quella maniera, riesce a reggere. E quindi, appunto, l'unione di queste due cose, oltre ad avere la gestione dell'online, quello che noi chiamiamo l'online, quindi la situazione in essere dell'azienda, quindi quello che succede, tempo reale, e reagire quindi in conseguenza a quelle che sono le eventuali problematiche, perché comunque anche lì, chiunque di noi sicuramente è già capitato, faccio una pianificazione, è la migliore del mondo, peccato che poi si rompe un macchinario, oppure una risorsa fondamentale non è più disponibile. Ecco, rimettere in mano una pianificazione è un'attività che porta tantissimo tempo. Ma perché non farla fare a un digital twin che ha preso come tu decidi chi fa che cosa e quindi ti propone la soluzione? E questo, appunto, riuscire a entrare nell'ottica di avere un supporto proprio alle decisioni e quindi essere praticamente governare in tutto e per tutto quello che è il mio processo e non solo per l'online ma ripeto, anche, e fondamentale, per un'azienda che vuole crescere, nel previsionale. Quindi voglio capire se come sto ragionando, come mi sto attivando, come reagisco, supporterebbe una crescita, un investimento. Direi che ho finito. Grazie. 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 Grazie.